allora ragazzi volevo farvi una confidenza cioè un momento sincerità io non voglio offendere nessuno altri colleghi però una cosa che non ho mai detto pochi sanno che il mio doppiatore il mio doppiatore preferito è loris lodi per me insomma ho un sogno e quello voglio dire su instagram non mi capita spesso di dire queste cose mi piacerebbe tantissimo avere questo doppiatore a casa per parlare per raccontare aneddoti però è un po' impossibile io faccio sto video nella speranza che magari taggandolo lui possa così insomma saperlo sapere se che è un sogno è un sogno allora i slodi non ci sia col cofanetto di prison break perché la voce di t-bag è un sogno